Ascoltami, partiamo? Andiamo su con l'app e carico, lì viaggiamo con il mio cinema monografico, no? Siamo odiati da tutta la città, il 50% che non odia te odia me. Comunque le amo tutte ragazzi, abbiamo dato il numero di telefono almeno a 150 ragazzi. Le parti più ulti l'hanno passate nell'acqua tiepida, sono calda. Sei a zero, l'ho perso grazie a un figaro. E a Roscarole era solo Van Gogh, Van Gogh aveva capito tutto. E io non ho un sbosch, non so chi sia. E lo che fabbrica, i drappani, non so chi sia, drappani della Bosch, la Bosch, Giovanni Bosch. E io non so chi sia, drappani della Bosch, la Bosch, la Bosch, la Bosch, la Bosch, la Bosch. Io è una vita che cerco di imparare i tuoi pregi e tu senza fare un cazzo hai imparato tutti i miei difetti. È possibile sta cosa? Sì, è vero, è vero. Perché cazzo?